ciao e bentrovati finalmente sono in vacanza per 15 giorni stoppiamo le nostre video lezioni ma per festeggiare i nostri primi mille iscritti al canale vi faccio un regalo speciale i 10 commenti più interessanti lasciate richieste lezioni che volete fare argomenti focus di lezioni io le realizzerò per voi quindi aspetto i commenti i 10 più carini interessanti verranno premiati un abbraccio e ci vediamo presto con nuove video lezioni ciao grazie 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 grazie